Tutto pronto quasi in Piazza Duomo per ospitare la magia del Natale. Nel cuore del centro storico si stanno sistemando le casette di legno che da domani e sino al primo gennaio ospiteranno il villaggio di Natale. A pochi passi anche l'Ice Park, la pista di pattinaggio che tanto successo ha avuto negli anni passati. Il villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20 ed accompagnerà Aquilani e turisti in un percorso all'insegna dell'anogastronomia e dell'artigianato di qualità. Un'iniziativa promossa dagli assessorati al turismo e al commercio del comune. Nelle tipiche casette si ricreerà un piccolo villaggio, si respirerà una magica atmosfera natalizia con profumi e colori tipici di questo periodo speciale. La proposta enogastronomica vedrà protagonisti sia operatori abruzzesi sia provenienti da altre regioni e allora via allo zafferano, ai prodotti caseari, tartufoli, querizia, legumi, olio, uno spazio sarà dedicato anche alla somministrazione di specialità calde e fumanti che riscalderanno l'atmosfera. Accanto a questo profumatori, articoli in legno, libri e tanto altro, l'obiettivo è anche quello di attrarre visitatori da fuori città e favorire il commercio locale con l'afflusso e il centro. Ma non è l'unica iniziativa, ci sarà la casa di Babbo Natale al castello e tante altre alla villa comunale. Il mercatino è soltanto la parte principale perché comunque poi ci saranno altre iniziative che riguarderanno l'intera città così anche come le frazioni perché anche quest'anno come è stato fatto negli scorsi anni stiamo allestendo anche alberi di Natale nelle frazioni proprio perché il principio è sempre quello che la città deve essere valorizzata nel suo insieme. Avremo una casa di Babbo Natale al castello e questo mercatino dovrebbe essere domani alle 16.30 al momento in cui si accendono anche le lucine intorno alle casette. Poi saranno anche organizzate alla villa comunale delle manifestazioni sia natalizie sia magari con dei mercatini proprio di quelli che sono anche i nostri espositori e il fatto è questo è che noi avremo un'ampia gamma di possibilità da spingere anche non soltanto i nostri cittadini ma soprattutto quelli che verranno da fuori città a visitare la nostra città e questo del mercatino è solo se vogliamo un pretesto perché poi è chiaro che nel momento in cui arriva il turista poi i ristoranti, i negozi eccetera quindi è qualcosa che si aggiungerà all'offerta che la nostra città può dare. Inizialmente si era deciso di creare un percorso diffuso ma poi si è puntato tutto sulla piazza per lasciare i portici tornati all'antico splendore aperti per altre iniziative. Essendoci quest'anno la novità dei portici che sono aperti e abbiamo più immaginato una valorizzazione proprio del porticato e quindi diventa dal di sotto del porticato piuttosto che addossare fuori dei portici le casette ecco perché poi alla fine le abbiamo volute concentrare tutte quante su piazza Duomo. Grazie. Grazie.